Allora è stata una partita particolare, avete iniziato fortissimo, poi l'Inter è tornata a mettervi in difficoltà ma poi nel finale avete conquistato con merito questa quarta finale consecutiva. Sì, io sono orgogliosa delle ragazze, diciamo che i primi 20 minuti erano da copione e poi sappiamo che si va sempre in difficoltà e sicuramente da squadra dobbiamo sapere gestire molto meglio questi momenti. Sono molto felice di averla conquistata perché non è mai scontato. Rinnovo i complimenti alle ragazze perché il primo posto poi in campionato ci ha comunque dato del vantaggio e non vediamo l'ora di domenica. È vero, leggendo l'intervista, la sua intervista d'altro giorno, non bisogna, o sarebbe meglio non parlare di rivincita ma ecco, un nuovo atto della sfida con la Roma, quarta finale consecutiva contro il Giornaio Giallo Rosse, che finale sarà? Io chiaramente su quella rivincita mi riferivo al campionato perché è stata davvero, abbiamo fatto un'ottima partita sappiamo che però le finali sono totalmente un'altra cosa e quindi ci faremo trovare pronte e vinca il migliore come sempre. Grazie mille.